Ecco la colonna di mezzi pesanti in dotazione alla task force del crimine. La banda di riapinatori pugliesi, che l'altra sera dopo aver assaltato un posto di blocco a Cessinari, ha aperto il fuoco contro le forze dell'ordine per tentare di sfuggire alla cattura. Sette veicoli di grossa portata tra camion, tira e furgoni, sequestrati e portati via con i carroattrezzi dagli agenti di polizia. Il parco mezzi della Mala è stato rinvenuto ieri sera all'interno di un capannone situato al centro del comune di Cessinari, dove si presume che il commando aveva allestito il suo quartier generale. Uno stabilimento finito all'asta anni fa e successivamente presso in fitto ora oggetto di accertamenti da parte degli investigatori. La domanda è come sia finito in una struttura nel cuore di Cessinari un elefantiaco esercito di mezzi pesanti. Non è passata inosservata la presenza di un mezzo che sarebbe probabilmente servito alla gang per trasportare un escavatore. La pala meccanica sarebbe stata utilizzata per sfondare il furgone portavalori finito nel mirino dei rapinatori, nell'assalto e bisonti a quattro ruote con a bordo gli assalitori. Avevano avuto il compito di sbarrare le corsie della superstrada Avellino-Salerno. Lo stesso modus operandi registrato in occasione dei colpi messi a segno sul raccordo nel febbraio del 2017 e nel dicembre del 2018 ai danni dei blindati della Cosmopol. La rapina perpetrata quattro anni fa fruttò ai malviventi due milioni di euro. Una formazione militare, così la definì l'allora procuratore capo di Avellino, Rosario Cantelmo, che parlò di sfida allo Stato e invitò le istituzioni a garantire maggiore sicurezza per la provincia elpina. Ieri mattina davanti ai cancelli di via Palatucci, il questore Maurizio Terrazzi ha parlato di profilo criminale di alto livello. Basta vedere anche il curriculum del capo della banda, arrestato ieri su un autobus. Si tratta infatti di un 53enne ritenuto dagli inquirenti elemento di spicco della mala foggiana. Il pruri pregiudicato era latitante dal 2020, calibri pesanti nel panorama della mafia pugliese che hanno spinto la DIA, la direzione investigativa antimafia, ad accendere riflettori sul caso Cesinani. Le due jeep intercettate giovedì sera all'altezza del cimitero di Avellino dopo la segnalazione della questura di Chieti sarebbero solo due veicoli di una colonna di auto ben più consistente. Almeno altri quattro mezzi si sarebbero dileguati nella notte, sfuggendo al blocco degli agenti di polizia. A bordo, sospettano gli investigatori, poteva esserci un assenale di armi, mitra, kalashnikov e bombe che, come accaduto nelle precedenti rapine alla Cosmopol, avrebbero reso il raccordo, un teatro di guerra. L'inchiesta coordinata dal magistrato Vincenzo Toscano sulla sparatoria, venuta a Cesinani, ha aperto due fascicoli, uno utile a definire obiettivi, responsabilità e dinamica del piano criminale. L'altra indagine servirà a chiarire le cause che hanno provocato il decesso del 34enne di Morfetta, uno dei componenti della banda abbandonato sulla jeep bianca tra i binari della ferrovia Villa San Nicola.